Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi oggi vi spiego come aggiornare i driver della vostra scheda video In descrizione vi ho lasciato un link, cliccate sopra e vi porterà su questa pagina Questa pagina vi permetterà di scaricare i driver per la vostra scheda video Qualsiasi scheda video e NVIDIA, qui stiamo parlando di NVIDIA Quindi se avete un tipo di prodotto, GeForce, Titan e NVIDIA RTX, schiacciate questi tipi di prodotto Io ho ad esempio la 1660 Super, quindi GeForce della serie 16 Oppure se avete la RTX della serie 30, un notebook portatile, sto dicendo un portatile E ho ad esempio la 16 serie, quindi metto, no aspettate, eccola qua 1060 Super, sistema operativo Windows 11 e poi abbiamo i driver GameReady Poi facciamo una breve ricerca Eccolo qua, il nostro driver Lo scarichiamo Una volta scaricato, chiudete tutto Questo è il nostro driver che sarà installato sul sistema Quindi ci facciamo Un bel clic sopra Esegui come amministratore E poi dobbiamo solamente estrarre il pacchetto Una volta estratto tutto il pacchetto Ci porterà su un pannello Il pannello per configurare il driver Ok? Poi accettate tutte le condizioni Tutte quelle cose che nessuno legge E l'avete installato e aggiornato il driver Poi, una volta fatto Ecco, impossibile continuare l'installazione di invite Perché è necessario avviare il sistema Il fatto è che A voi vi dirà Possiamo eseguire l'installazione Fate un'installazione rapida E scaricate sia il driver Che questo GeForce Experience Perché è molto importante E poi fate accetta avanti Una volta fatte tutte queste cose Riavviate il vostro sistema operativo Detto questo, ragazzi Grazie a tutti per questa visione Un video brevissimo Un video... Vabbè, avete capito come funziona Detto questo Grazie a tutti per questa visione Lasciate like se il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Quindi ciao